È arrivato fino a diventare il tennista numero 18 del ranking mondiale, ma Andreas Seppi, 39 anni, tennista italiano e padre di due bimbi, non ha mai perso l'umiltà e la disponibilità, un modello positivo da imitare per i tanti giovani praticanti e appassionati di questo sport. Il tennis club Venezia, uno dei circoli più blasonati e storici del mondo, lo ha invitato come ospite d'onore alla festa dell'estate 2023 nei campi in terra rossa del circolo in lungomare Marconi a Lido di Venezia di fronte a Rotterre Celsior. È sempre bello fare queste giornate, iniziative, vedere i bambini che si avvicinano al tennis e fare un po' di esibizione, quindi giornata speciale, bellissima e speriamo di vederne di più in futuro. Il tennista di Bolzano, 39 anni, è stato vincitore in carriera di tre tornai EPT per vent'anni e ai vertici delle classifiche, ha regalato ai bimbi della scuola tennis il sogno di averlo come compagno di squadra e mestre e poi ha sfidato, sempre nel segno dell'amicizia e del fair play, la prima squadra maschile veneziana che miglita in Serie C. È un momento più bello, ma è difficile scegliere un momento particolare in tutti questi anni, ma se proprio devo prendere uno a uno, forse la vittoria confederale dell'Australian Open 2015. Progetti del futuro, vogliamo portare appossognati di tennis ai tornei più importanti della stagione, quindi gli Slam o i Masters 1000 e vedere le partite con loro. Felice il presidente del Tennis Club Venezia, Enrico Zanetti. Vedere da vicino un grandissimo del nostro sport, non solo dal punto di vista dei risultati sportivi, ma anche della condotta morale che lo ha sempre contraddistinto e che tutti gli avversari li hanno riconosciuti.